Mi chiamo Paul Forney e lui è mio figlio TJ. Ho perso mia moglie, la mamma di TJ, poco più di due mesi fa. Si è svegliato? Ha dormito tutto il giorno? Ti senti confuso quando ti capitano delle cose così terribili, ma alla fine torni a stare bene come prima. Ciao, giovanotto, come va? Ciao, vecchia. TJ, questo chi è? Mi chiamo Escher, un amico di suo figlio. Che cosa ci fai qui? Che cosa ci fai tu qui? Escher, che razza di nome è? Tessie mi ha infilato la testa nel cesso e tu sei rimasto lì a guardare. Te ne devi andare da casa di mia nonna. Ehi! Amici? Ok. Dove vai? Ti do un passaggio. Non ci parlo con te. Mi dispiace per l'altra sera, ero fuori. Sono stato... Stupido, irresponsabile, perciò... Ti chiedo scusa. Credo di potervi essere utile. Lei era ferma e tu le sei andato addosso. Che cosa? A volte ti capita una brutta giornata e pensi che non potrebbe andare peggio. E invece scopri che può addirittura peggiorare. Tu non vuoi comprare niente. Tu vuoi solo spiare lei. Non è vero. Mi sembri un po' più grande di TJ. Anni fa avevo un serpente e da mangiare gli davo un topo vivo. Poi, una volta, un topo si è alzato sulle zampine posteriori e gli ha dato un cazzotto sul muso. Senti! Io ti ho salvato.